Buonasera a tutti, aspettiamo come sempre qualche secondo che aspettiamo giusto il tempo che tutti siano collegati, visto che siamo sempre numerosi ci diamo sempre qualche secondo così la connessione buona per tutti e aspettiamo giusto un attimo. Allora, mentre aspettiamo che tutti si colleghino, mi presento come sempre così intanto faccio una piccola introduzione. Io sono Elena, lavoro con l'associazione Succede solo a Bologna, sono la responsabile delle visite guidate e l'associazione è una realtà che promuove la cultura bolognese e la città di Bologna e il territorio e lo facciamo attraverso alcune attività di diversa natura, da i percorsi turistici, quindi le visite guidate a eventi che coinvolgono la cittadinanza come per esempio il San Loka Day e il Cino Day. noi organizziamo anche delle attività online come per esempio il corso di dialetto online e tra le varie attività online ci sono appunto questi webinar che sono alcuni in modalità tipo conferenza anche se hanno comunque un registro un pochino più leggero come questi e altri che sono invece in modalità live dal vivo e quindi più specifici su alcuni monumenti. Quello che vediamo stasera è quello dedicato ai canali di Bologna essendo un argomento molto vasto che andrebbe trattato con un tempo molto più ampio di un'oretta ovviamente sarà trattato in maniera sì approfondita però diciamo sorvolando un po' dall'alto le varie tematiche e per fare questo come sempre i nostri webinar sono divisi per argomento infatti troverete i diversi loghi legati agli argomenti che tratteremo questa sera e per chi di voi fosse interessato alla fine della della serata riceverete una mail e con questa mail potrete iscrivervi e partecipare anche alle prossime serate la prossima sarà proprio il 28 di aprile quindi potrete iscrivervi al prossimo webinar e anche sostenerci donando il 5 per mille all'associazione se vi fa piacere. Iniziamo con il primo argomento che è quello dedicato all'Aposa che ha un logo un argomento a parte perché l'Aposa è l'unico dei nostri corsi d'acqua a essere un naturale quindi non un canale artificiale. L'Aposa è un torrente quindi di origine naturale che scorre da sud verso nord e attraversa tutta Bologna scende dai colli e va verso la pianura quindi praticamente sorge diciamo alle sorgenti su questo monte che si chiama Monte Paderno a sud di Bologna e ha un corso di circa 10 chilometri. Ha la sorgente in una località che si chiama Roncrio e per il primo tratto è un canale che scorre in superficie cioè un corso d'acqua che scorre in superficie invece nella seconda parte del suo percorso che è quello che noi conosciamo in città è interrato. Vi ho messo proprio una cartina, una piantina che vi fa vedere il corso dell'Aposa che lo vedete in blu nella parte in basso e poi in questa piantina è molto chiara perché si vedono anche con i diversi colori tutti gli altri canali artificiali che sono stati portati in città da corsi d'acqua ovviamente naturali come il Savena o il Reno però quello che ci interessa al momento e lo si vede proprio perfettamente è tutti i vari affluenti, rigagnoli che vanno a comporre questo torrente che è l'Aposa che arriva appunto in città. La leggenda vuole che Aposa fosse il nome di una donna quindi il nostro torrente porta il nome della donna che fu l'amante, la donna amata da un re etrusco. Il re etrusco si chiamava Fero, arrivò in questa zona, in questa porzione di pianura arrivando dalla Romagna, da Ravenna e decise di stanziarsi proprio in questo piccolo spazio di terra che si trovava appunto tra l'Aposa e il Ravone e qui decise di insediarsi e di costruire un piccolo villaggio e si innamorò di questa principessa dei Galli Boy che erano invece un'altra popolazione che abitava in quest'area della pianura e questa donna per raggiungere il suo amato cercò di attraversare il torrente ma venne travolta da una piena e perse la vita e lui per amore di questa donna decise di dedicare il suo nome al torrente. è una leggenda ovviamente molto romantica che è legata anche alla fondazione della città etrusca felsina perché la figlia di questo re etrusco appunto che fondò questa città, questo primo villaggio, diede il nome della città e della figlia alla città quindi il nome dell'amata diciamo è il torrente Aposa invece il nome della figlia felsina fu poi il nome della città in cui noi viviamo che adesso si chiama Bologna. Il nome Aposa ricorre spesso anche in alcuni toponimi della città lo troviamo in via Valdaposa, lo troviamo in via Avesella che prende proprio il nome da Avesa che è un altro nome con il quale si chiamava questa principessa e quindi in realtà è significativo di come la città abbia tenuto nelle strade nelle vie proprio il nome del torrente che la attraversa sottoterra. Allora il torrente arriva diciamo da da sud e arriva all'altezza del viale per chi conosce un pochino Bologna il viale di circonvalazione tra Porta San Mamolo e Porta Castiglione in questo punto è il la zona in cui entra in città e poi attraversa tutta la zona diciamo intorno a San Domenico arriva in piazza Minghetti dove c'è una targa posizionata sulla pavimentazione proprio tra il palazzo delle poste che è questo bel palazzo primo novecentesco e la diciamo il centro della piazza dove è collocato un grande platano un platano monumentale proprio tra queste eh tra il platano diciamo e la piazza e il palazzo c'è una targa per terra che ricorda che in questo punto sotto scorre l'Aposa e qui c'è anche uno degli accessi degli ingressi per scendere al torrente e poi scorre attraversando il quadrilatero quindi via Clavature tutta la parte centrale tocca diciamo sfiora le due torri e poi prosegue nella parte nord verso eh via Irnerio dove poi incontra il canale delle moline nel quale confluisce quindi più o meno questo è il percorso per chi conosce un pochino il centro eh che fa il torrente sotto di noi questo invece che vedete qui è proprio il serraglio dell'Aposa quindi il punto in cui l'Aposa entra in città si trova come vi dicevo prima sul viale è addossato proprio alla cinta muraria quella che era la cinta muraria più recente a noi quindi la terza e qui è proprio all'incrocio tra via Alfonso Rubiani e il viale è ancora perfettamente visibile all'interno ospitava dei meccanismi che venivano azionati con una grata che serviva proprio per impedire che venissero eh introdotte clandestinamente persone perché poteva essere pericoloso per evitare comunque delle occupazioni o delle invasioni. Nel tredicesimo secolo in via San Domenico si trovava anche un guazzatoio che veniva utilizzato per il lavaggio e l'abbeveraggio di animali. Questo è indicativo per comprendere quanto il torrente fosse ovviamente utilizzato nei diversi usi più disparati già in città. È stato sempre molto utilizzata tutta l'acqua che è stata portata a Bologna e inoltre questo torrente aveva una certa impetuosità nello scorrere perché Bologna anche se apparentemente sembra in pari cioè sembra pianeggiante è ehm collocata su un dislivello abbastanza importante perché da porta San Mammolo a la stazione ci sono circa quarantacinque metri di differenza di altezza quindi il torrente che scorre e arriva da Monte Paderno scorre con una certa forza eh non a caso si parla di questa piena mitologica che travolse questa giovane donna perché scorre con un certo impeto infatti è appunto un torrente e ehm quindi diciamo veniva utilizzato e ehm sfruttato anche per la beberaggio perché era appunto acqua molto pulita molto fresca. Quello che vedete qui sotto è proprio il corso dell'Aposa sono i sotterranei di di Bologna quello che si vede quando si scende è praticamente costruita così con delle volte a botte e eh un piccolo mh camminamento che si trova lo vedete sui lati. In questo punto si può percorrere appunto la città attraversandola completamente tagliandola proprio a metà. Questo punto è vicino a via Rezzoli quindi siamo proprio nella zona del quadrilatero e qui si trovava anche si trova tuttora ehm questo intradosso del ponte romano fatto in in Selenite che ehm serviva proprio per attraversare il torrente perché come molti di voi sapranno la Bononia romana aveva ehm come tutte le città romane il Cardo e il Decumano. Il Decumano Massimo era appunto via Rizzoli cioè la parte inurbata della via Emilia. La via Emilia è una strada di eh capitale importanza per l'impero perché è eh la strada che permette di raggiungere eh di collegare Rimini con Piacenza e quindi da Piacenza poi dirigersi verso Mediolanum, verso Milano e da lì ehm attraversare eh passare diciamo le Alpi e quindi raggiungere i territori d'oltre Alpe e espandere l'impero che era ovviamente l'obiettivo principe dei romani. Quindi questa via è veramente importante è così tanto importante per i romani che dà il nome alla nostra regione perché l'Emilia Romagna si chiama così perché proprio l'Emilia è terra di Romani quindi Emilia è il nome della via. Quindi è veramente importante per attraversare questo torrente eh la via Emilia doveva appunto fare un ponte che noi possiamo ancora vedere nei sotterranei almeno quello che ne rimane per appunto attraversare l'acqua. La seconda parte invece ehm è dedicata proprio ai vari canali artificiali quindi non più canali naturali che attraversano la città ma sono delle derivazioni dei canali artificiali delle derivazioni da dei corsi d'acqua naturali che sono per esempio il Reno e il Savena che scorrono non lontani dalla città e in questa immagine che ho messo che si trova in realtà eh nelle loge vaticane ehm è veramente molto chiara e spiegato molto bene perché ci sono i colori a identificarli tutti i vari percorsi quindi si vede bene il Reno si vede il Savena, l'Aposa e quindi si riesce a capire diciamo all'interno della città quanto fosse veramente ricca di acqua, quanto lo è anche ai giorni nostri. Noi difficilmente la riusciamo a vedere come vedremo poi ci sono nel dettaglio alcuni punti dove è molto visibile però è difficile immaginare che sotto ai nostri piedi scorra così un'ingente quantità di di acqua e questo è proprio una di di quelle immagini che che vi dicevo prima. Qui si vede bene il canale di Reno e ho voluto proprio mettere questo per primo perché diciamo è quello che si riesce a vedere meglio dai punti proprio in città. Il canale di Reno è veramente molto antico perché nel dodicesimo secolo viene creato proprio questo canale che riceve acqua dal fiume Reno e grazie alla chiusa di Casalecchio viene direzionata verso la città di Bologna. Arriva diciamo presso l'Opificio della Grada che è in via della Grada per chi conosce la città quindi nella parte occidentale della zona delle mura quindi entra da lì e poi si divide in due rami il canale del Cavaticcio e il canale delle Moline che si ricongiungono poi al porto il porto di Bologna perché Bologna aveva un porto il porto Navile dove appunto c'è il canale Navile. Nel 1998 sono stati anche riaperti degli affacci ehm da da dei ponti sul tratto che passa dietro diciamo alle case di alcune vie del centro che sono via Righi e via Bertiera danno diciamo non sono facilmente visibili per chi fa queste passeggiate in centro perché bisognerebbe proprio entrare nelle case però dalle abitazioni sono ben visibili e si riesce a a vederli. Invece nel 2004 è stato riaperto un breve tratto di canale che è a ridosso delle mura quindi praticamente eh adiacente al viale e alla alle mura della città proprio nei pressi di via della Grada insomma dove il canale entra tuttora in città. Questa è proprio la grada cioè la grata che impediva ehm l'ingresso clandestino in città. appunto nella siamo sempre sul canale di Reno quindi rimaniamo all'interno di questo macro argomento e eh come vedete veniva proprio sollevata e abbassata per evitare che si introducessero merci per chi pensava o provava a evitare di pagare il dazio sulle merci oppure proprio per evitare che si introducessero delle persone clandestinamente e che ci fossero quindi delle invasioni di popoli nemici o occupazioni della città. Questo è proprio lo strumento che dà il nome anche alla via quindi via della grada prende il nome proprio da questa. E questa è proprio la via invece via della grada non come la vediamo oggi questa è una foto d'epoca anche abbastanza famosa si vede spesso e ehm è proprio la via come appariva fino agli anni cinquanta circa perché il diciamo l'ultimo eh canale che viene proprio tombato eh siamo nel millenovecentocinquantaquattro quindi veramente in tempi recentissimi e Bologna ha sempre vissuto con i canali a cielo aperto li ha sempre utilizzati e in questa immagine che sembra così lontana nel tempo ma in realtà non lo è eh si vedono proprio le lavandaie che ehm lavavano i panni al fiume come si è sempre fatto fino all'invenzione di strumenti tecnologici che ci hanno permesso come la lavatrice di lavare i panni più facilmente a casa quindi ad uso domestico però in realtà era una un'abitudine molto diffusa si faceva regolarmente e queste donne che eh erano diciamo obbligate a stare con i piedi e le gambe in acqua per molte ore ehm erano un po' eh condannate a delle malattie come l'artrite deformante oppure malattie polmonari perché dovevano stare con appunto le le gambe in acqua per molto tempo e l'acqua era ghiacciata in più anche lo sforzo fisico a cui erano sottoposte perché i panni pesavano moltissimo essendo bagnati era uno sforzo importante quindi era un lavoro molto duro ehm che dovevano fare erano anche sottopagate e ehm erano anche diciamo viste come donne di facili costumi proprio perché dovendo stare con le gambe in acqua spesso tenevano le gonne leggermente sollevate sopra le ginocchia e quindi far vedere addirittura le ginocchia era una una cosa molto audace per l'epoca e quindi venivano un po' trattate anche così come donne leggere di facili costumi in realtà era una necessità ovviamente per non doversi bagnare troppo. Il canale delle moline invece è praticamente una eh derivazione del canale di Reno cioè il secondo ramo del canale di Reno ha dei salti di quota che servono per rallentarne il corso quindi per far scorrere l'acqua più lentamente e alimentava diversi mulini lungo il suo corso come vedremo poi nello specifico eh Bologna aveva molti mulini alcuni servivano per produrre grano eh altri alimentavano delle macchine industriali la più famosa noi tratteremo poi l'industria tessile della seta ma c'erano anche macchine eh non so per le segherie per diversi eh lavori non semplicemente per tessere la seta quindi col mulino da seta e eh si ricongiunge il canale delle delle moline al navile quindi poi si rimescola con le acque del Savona e anche dell'acqua questa che che vedete è la famosa finestrella di via Piella è un punto molto famoso in città è anche uno dei sette segreti e viene ehm spesso eh citato fatto vedere ai ai agli amici o a chi viene da fuori perché diciamo si presta molto bene perché raccontare Bologna e le acque è molto difficile se non si riesce a immaginarla invece in questo punto particolare di via Piella ehm è perfetto perché si passeggia sotto il portico la finestrella solitamente è chiusa e poi si apre questa piccola finestrella quadrata e ci si affaccia su un mondo che ormai sembra lontanissimo molto antico e invece è ancora eh diciamo tra noi quindi è perfetto per far vedere come viveva Bologna all'epoca inoltre qui c'è anche il torresotto ehm quindi una piccola torre che si collocava sulla cerchia muraria del mille e che serviva principalmente con scopi difensivi e quindi eh anche perfetto per vedere come si collocava il corso del canale delle moline ehm legato proprio alla cinta muraria quindi alla cinta dell'anno mille e questo è sempre il canale delle moline ehm nella zona di via malcontenti che prende il nome proprio dai condannati alla pena capitale che dovevano passare per questa via perché dovevano andare verso la piazza del mercato le pene mh capitali insomma i condannati venivano giustiziati all'inizio in piazza maggiore poi eh si decise di eh spostare queste esecuzioni fuori dalle mura del mille e quindi nella zona eh di piazza 8 agosto che era la piazza del mercato che è tuttora la piazza dove noi svolgiamo il mercato più famoso in città e per passare per andare verso piazza 8 agosto si attraversava appunto questa via che era detta via dei malcontenti e tuttora rimane con questo nome inoltre eh il canale delle moline invece prende il nome da i mulini che venivano azionati appunto dalle sue acque tra via Capodilucca e via Alessandrini ce n'erano diversi anche qui c'erano delle paratoie ovviamente che venivano utilizzate per regolare la la portata d'acqua e eh direzionarla praticamente verso i mulini che la dovevano utilizzare e ehm alla fine del 1800 venne addirittura installato uno dinamo per produrre energia elettrica dava energia elettrica via indipendenza e anche a via Righi quindi non a una zona chissà che quanto grande della città però questa dinamo fu una un'esperienza anche questa comunque cittadina quindi l'energia elettrica arrivava dalla dinamo azionata con l'acqua del canale delle moline nel 1516 eh via Capodilucca è proprio la via dei mugnai quindi qui ci sono mulini che fanno eh la farina che si fa il pane si fa la farina quindi ci sono proprio le macine per il grano e ehm questo canale prosegue poi verso via del pallone che è praticamente dietro via ernerio per intenderci nella zona dell'autostazione ecco questa zona qui vicino all'autostazione proprio di fianco c'è via del pallone e lì proseguiva prosegue ancora il canale delle moline eh che è proprio la zona di via Galliera cioè di Porta Galliera più che altro questa piazza ehm così ci riesce anche a identificare proprio la la questione difensiva della città perché ovviamente adesso noi non abbiamo più tutte le mura che collegavano le porte però Porta Galliera aveva le sue mura che la collegava alle altre porte e il ehm canale fungeva anche da fossato difensivo abbiamo poi dopo il canale del delle moline il il cavaticcio il cavaticcio che si origina anch'esso dal reno quindi sono sempre delle derivazioni e sfrutta l'alveo di eh un rio più antico quindi un piccolo corso d'acqua molto più antico che è eh Valle Scura che viene proprio dalla omonima via c'è a Bologna anche via Valle Scura è una zona particolarmente ombrosa e prende il nome da questo motivo ehm in passato eh alimentava una serie di mulini e poi arrivava al porto navile che è proprio in questa zona nella seconda guerra mondiale venne anche utilizzata come rifugio e eh venne successivamente danneggiato come buona parte di quest'area da i bombardamenti quindi in realtà è una zona che noi vediamo eh completamente con dei rifacimenti moderni nell'immagine che vedete eh si vede benissimo quello che è il retro del Mambo Museo di Arte Contemporanea di Bologna che era ehm un edificio dedicato era un ex forno del pane però si vede ancora bene il canale con al centro poi lo vedremo nel dettaglio un'opera d'arte contemporanea e questo invece è il porto nella versione antica quindi il porto proprio di Bologna legato al canale navile quello che vedete qui in basso nell'immagine dove ci sono questi gradini che scendono sono proprio le eh bite per l'ormeggio quindi dove si attaccavano le imbarcazioni queste piccole colonnine basse e tozze servivano proprio per ormeggiare le le imbarcazioni il porto navile cinquecentesco viene progettato dal Vignola da Jacopo Barozzi che è un importante architetto molto famoso che ha lavorato molto anche in città e venne smantellato nel millenovecentotrentaquattro il motivo è legato all'arrivo di un mezzo molto più veloce ed efficace che è il treno in pratica dopo l'arrivo del treno e l'utilizzo in massa di questo mezzo ehm si va un po perdendo questa abitudine del trasporto merci via acqua in città e questa foto viene scattata proprio dalla casa del catenarolo che era ehm l'addetto all'apertura e chiusura dell'accesso del porto questo canale poi usciva dalla città sempre passando dalle dalle mura e arrivava fino alla pianura il canale navile quello che mette poi in collegamento la città con tutta la pianura verso nord quindi passando diciamo per ehm tutta la zona della pianura arriva fino a Ferrara quindi attraversa diversi comuni lo si vede bene in alcuni punti lo trovate a Bentivoglio dove c'è anche un famoso castello con un famoso mulino che sono sempre parte dei mulini bentivoleschi e lì ehm vedete proprio il canale navile che prosegue e va verso Ferrara a quel punto arrivato a Ferrara si mette nel Po e dal Po può proseguire il suo corso fino al mare e quindi una volta arrivato al mare può raggiungere Venezia e una volta raggiunta Venezia si è in comunicazione con il mondo intero quindi Bologna aveva questo me questo eh diciamo canale proprio di collegamento con il resto del mondo attraverso le acque e è una una cosa difficile da immaginare ai giorni nostri però in realtà ehm molte merci venivano trasportate così quindi era abbastanza usuale si navigava e si percorreva questo tratto di pianura fino a nord in basso a eh diciamo verso la metà dell'immagine a sinistra trovate anche la piccola figura di una donna che sta lavando i panni quindi anche questo è sintomatico di come venissero regolarmente utilizzati i canali per lavare i panni la vedete proprio lì in tenta china lavare con le gambe in acqua esattamente come vi dicevo e questo dà anche il il nome all'edificio di cui noi vediamo solo una piccola piccola parte che è proprio la chiesa di lavandai o in dialetto la cisa di lavander proprio perché la dogana questo edificio aveva un aspetto che ricordava un po' quello di una chiesa e più in fondo vedete poi invece un ponticello una passerella che collegava le due rive di questo canale questa invece è proprio la chiesa dei lavandai la dogana in realtà questa è la chiesa di lavander adesso è un edificio che non non c'è più e al centro trovate una una statua una madonna in terracotta che è di un autore anche abbastanza conosciuto in città che è il conservata per fortuna in palazzo da cursio quindi la trovate in cima allo scalone adesso passiamo invece all'argomento diciamo che è forse più famoso legato all'utilizzo delle acque a bologna perché è quello della seta e come molti di voi sapranno già bologna è stata il centro del mondo per quello che era l'industria tessile dal metà del 1200 fino al 500 avuto ovviamente un momento di massimo splendore per poi vivere un lento declino come è normale che sia e in questo punto vi ho messo proprio la targa perché in via del fossato e anche questo ci fa ricordare come ci fossero dei corsi d'acqua in via del fossato veniva proprio introdotto il meccanismo idraulico dei filatoi da seta che venne poi autorizzato dal comune nel 1341 bologna è la prima città a regolare la produzione e il commercio dei bozzoli da seta proprio attraverso i suoi statuti quindi con delle leggi il signore a cui viene dato il merito di aver portato questo questo segreto a bologna è bolognino de borghesano da lucca che è il primo ad aver istituito un filatoio idraulico nella seconda metà del 200 nella zona intorno a porta castiglione che è proprio qui dove vi dicevo e in realtà viene attribuito a lui però già prima della presunta venuta di questo bolognino de borghesano eh da lucca si documenta bologna l'esistenza dell'artigianato da seta quindi probabilmente il suo è una una aggiunta dal punto di vista tecnico perché il segreto dei bolognesi non è tanto quello di fare la seta che si faceva già anche in altre città ma è di come fare la seta con un sistema idraulico meccanico che è praticamente una svolta epocale per il commercio bolognese e infatti vi ho messo proprio l'esempio di un mulino da seta perché spesso quando si dice mulino da seta si immagina nell'immaginario un po collettivo un mulino un mulino con una pala così quelli diciamo di fantasia invece in realtà è una serie di edifici eh collegati tra loro ed è un sistema molto complesso quindi c'è praticamente una zona abitativa che è quella che vedete qui eh a sinistra e poi c'è una zona invece dove c'è la produzione la zona industriale che ha la funzione proprio di produrre quindi l'opificio ed è uno spazio organizzato in senso verticale i motori idraulici quindi le pale sono collocate in basso nelle cantine dove prendono l'acqua dai canali che queste pale ruotando ne vedete una proprio al centro c'è una ruota ecco quella lì ruotando azionava se voi vedete a a destra un'altra ruota posizionata invece in senso orizzontale quindi pari e muoveva queste torri che vedete sopra che sono delle torri che servivano per torcere il filo di seta e eh erano alte diversi piani vedete che sono degli edifici di tre quattro piani di altezza quindi degli edifici molto grandi per ritorcere appunto questo filo che veniva estratto dal bacco il bacco da seta è un un insettino che fa un bozzolo e che tenterebbe di diventare farfalla ma che ovviamente viene ehm tolto prima e questo bozzolo una volta tirato fuori il filo dal bozzolo va filato cioè va messo in ordine perché è un filo tutto arrotolato e va ritorto con più il filo è ritorto più la seta è pregiata perché è più liscia più sottile e più resistente allo stesso tempo per ritorcere tante volte il filo in diversi punti si utilizzava appunto ehm questo sistema per la torcitura meccanica alimentata quindi ad acqua che permetteva non solo di produrre molto di più perché si produceva per tantissime ore ma anche la qualità ne giovava perché non era più la mano dell'uomo a dover fare questo lavoro e ad avere un ritmo non sempre regolare cadenzato come quello di una macchina invece in questo caso essendo proprio una macchina si andava per ore sempre allo stesso ritmo con un andamento regolare e quindi il risultato finale era perfetto era ottimo inoltre questi due ambienti erano molto diversi tra loro c'era eh lo spazio domestico che era lo spazio casa quindi con la luce con il fuoco con l'acqua pulita e c'era invece eh lo spazio opificio che era quello industriale che era un ambiente buio molto più freddo e con delle acque ehm acque più industriali quindi delle acque sporche e dico proprio un luogo buio non a caso perché ehm si riteneva che per lavorare la seta si dovesse fare in penombra al buio e quindi si riteneva che la luce eh danneggiasse i bacchi e la seta in generale quindi si doveva lavorare al buio in dei luoghi abbastanza eh angusti quindi non era proprio un lavoro piacevole era molto complicato ovviamente le macchine facevano il grosso del lavoro ma c'erano degli operai specializzati potremmo dire in questo caso che ehm le le azionavano e le le utilizzavano all'interno ehm del di questo caseggiato chiamiamolo così proprio nella zona centrale c'era appunto questo un luogo di collegamento che univa i due ambienti questo mulino fino al 1780 eh era attivo viene poi distrutto nel corso dell'ultimo conflitto mondiale quindi eh diciamo fino ai giorni nostri si è potuto vedere però per fortuna ne abbiamo un modello quindi è perfettamente riconoscibile e si riesce a capire come funzionava e questo invece è eh nello specifico proprio il mulino da seta alla bolognese in questo eh modellino che vedete è in scala ridotta uno a due quindi è la metà della dimensione reale però si riesce a vedere perfettamente a sinistra l'incannatoio cioè quello che serviva proprio per fare poi i rocchetti per legare tutto il filo in un rocchetto e eh invece la parte che noi vediamo come una torre è proprio il torcitoio quello che vi dicevo prima per ritorcere il filo quindi per renderlo più pregiato quindi si metteva in movimento centinaia eh di di fili e quindi se ne lavoravano molti di più in diversi punti lavorando cioè torcendo il filo in diversi punti questo diventava più più pregiato in pratica da un prototipo toscano mosso a braccia che è quello di lucca eh venne applicata questa ruota idraulica quindi la pala che noi prima abbiamo visto collocata nelle cantine e quindi questi ehm questi filatoi eh questo questa torre che noi vediamo ruotava girava e giravano tutti i rocchetti e in questo modo si riusciva a a produrre in in grande quantità oltre all'uso industriale dal punto di vista mh tessile c'era anche il la questione eh della navigazione del trasporto delle merci Bologna aveva un grandissimo commercio la seta stessa veniva trasportata e eh c'era un grande import export in città perché si importava la seta grezza eh la la materia prima e poi si lavorava a Bologna e poi si faceva l'export con l'estero quindi ehm anche con con la Francia con Lione con altre città inoltre fino al mille e seicento diciamo fino al mille cinquecento è stato quello della seta un segreto bolognese eh custodito gelosamente con delle pene capitali veramente molto molto pesanti a chi lo rivelava e mh venne poi mh purtroppo piano piano scoperto e quindi si diffuse un po' questa tecnica all'inizio nella zona di Venezia di Mantua e poi anche all'estero fin quando nel settecento una spia proprio industriale portò il segreto in Inghilterra a Derby dove venne realizzato un murino e quindi poi si perse diciamo questa tecnica tra l'altro alcuni storici eh della rivoluzione industriale ritengono che mh sia stato un po' l'incipit per quella che fu poi la rivoluzione industriale perché la grande novità non era solo dal punto di vista della qualità del del prodotto finito ma era proprio il concetto di far lavorare una macchina al posto dell'uomo quindi una vera propria eh proto industria diciamo e eh tutte queste merci venivano esportate fuori Bologna anche attraverso i i canali quindi qui eh ho messo proprio una bella immagine in cui si vedono i diversi sostegni che rappresentano proprio i gradini eh di di questa scala perché essendo appunto in dislivello andava un pochino rallentato il corso dell'acqua quindi siccome la viabilità via terra era un po' più pericolosa e limitata si utilizzavano le imbarcazioni lungo il il navile e quindi si poteva così trasportare delle merci per esempio ehm all'interno anche di San Petronio ci sono delle parti come la cappella di San Petronio che è eh realizzata nel settecento la cappella Aldrovandi eh proprio perché commissionata dal cardinale Pompeo Aldrovandi ha un architetto che è il Torreggiani che è completamente rivestita in marmo e sono marmi romani che arrivano appunto da Roma e che sono arrivati non via terra attraversando l'Appennino ma sono arrivati via mare quindi hanno fatto il percorso dal Tevere sono usciti sull'Adriatico poi hanno ripercorso verso nord sono rientrati dal Po e dal Po sono scesi attraverso il navile attraversando la pianura sono arrivati in città così quindi hanno fatto un giro che ai giorni nostri ehm non è subito immediato come come percorso di pensiero si pensa che arrivino via terra invece anche nel settecento nella prima metà del settecento i marmi arrivarono così via mare questo eh canale di il navile è lungo ehm circa quaranta chilometri come vi dicevo appunto si raggiungeva eh il Po e poi Venezia e poi da lì il resto del mondo e questo permetteva degli scambi commerciali eh veramente importanti per la città e questi sono appunto i sostegni che vi dicevo che sono praticamente dei gradini eh che servono per rallentare il corso del del canale perché essendo in dislivello l'acqua tenderebbe a correre vennero costruiti per compensare questi dislivelli e si chiamano anche porte vinciane perché ehm si ritiene che siano state inventate ideate progettate da Leonardo da Vinci e quindi sono proprio le sue sono vinciane ehm queste consentivano praticamente di eh sollevare o abbassare il livello dell'acqua in modo che le imbarcazioni potessero raggiungere il porto se dovevano risalire si alzava il livello in modo che si potesse proseguire in una direzione se dovevano scendere si abbassava il livello così da poter proseguire nella direzione opposta. Era sempre presente la la casa in cui alloggiavano gli addetti ai lavori che ehm regolamentavano proprio tutte queste manovre e questo ehm eh percorso via acqua si può immaginare come a oggi le moderne autostrade perché erano comunque ehm dei dei percorsi brulicanti di vita con un'attività molto vivace e c'erano infatti anche delle osterie perché eh a volte era necessario fare delle soste e quindi c'era molto lavoro anche diciamo indotto legato al percorso via eh via acqua. Questo che vi ho messo è proprio il sostegno del battiferro. Vi ho messo uno perché appunto è esemplare ehm viene ehm realizzato terminato nella seconda metà del nella metà del cinquecento sempre da Jacopo Barozzi che lo realizzò eh il vignola quello che dicevamo prima e subì diversi maneggiamenti non non è esattamente come lo lo realizzò lui e regola proprio l'afflusso delle acque che dopo un salto quindi un certo dislivello si eh dividono in due canali il fossetta che veniva utilizzato per la navigazione e invece il canalazzo che eh veniva invece diretto verso le zone ehm limitrofe dove c'erano delle industrie siderurgiche eh che sono quelle che poi danno il nome proprio al al sostegno il battiferro proprio perché qui c'erano questo c'era questo tipo di industria e ehm questi due tratti paralleli di canale si ricongiungono poi a un ponte molto famoso che è quello che noi conosciamo come il ponte della bionda che si chiamava in realtà il ponte nuovo e qui vi ho messo proprio il salto del battiferro quindi qui vedete proprio il punto in cui il il dislivello si fa più notare l'ho messo proprio perché è difficile a volte immaginarlo senza avere del dei supporti visivi invece così ci ci riusciamo proprio a immergere in questo ambiente e di fianco si vede anche la casa eh di manovra con all'interno tutti gli strumenti che venivano utilizzati per ehm regolamentare appunto le acque e gestire i sostegni. I giorni nostri che è la parte invece dedicata a la Bologna con i canali a vista è la parte che diciamo eh ci ricollega alla attualità perché tuttavia Riva Reno eh per esempio che ha il canale di Reno si chiama via Riva di Reno proprio perché lì scorre il canale di Reno sotto dove noi non vediamo più adesso è un un parcheggio è una strada praticamente e quindi non si riesce più a vedere questo aspetto delle acque in città però eh la la si si riconosce ancora nei nei toponimi della città e qui proprio nei toponimi troviamo ancora il porto perché questo è il quartiere porto tuttora e eh al posto dei mulini degli opifici eh di questi depositi del sale eh negli anni ottanta nasce un complesso ehm culturale che è quello del mambo che è legato anche alla eh manifattura proprio delle arti questo era un ex forno del pane come dicevamo prima che adesso ospita uno dei musei eh più più belli in città il museo di arte contemporanea in questa zona troviamo anche quella che era la manifattura tabacchi l'ex manifattura tabacchi che oggi è la cineteca che è una realtà di ehm importanza possiamo dire internazionale perché è veramente un punto di riferimento per il cinema eh e il restauro delle pellicole antiche ci sono pellicole che vengono da tutto il mondo per essere restaurate proprio nella nostra cineteca di Bologna e poi c'è il cinema Lumière che è l'ex mattatoio in città l'ex macello e qui vediamo proprio la la il punto dove ehm noi stavamo praticamente facendo la foto che è invece la salara quindi il deposito ehm del sale il luogo dove veniva depositato il sale e oggi ospita un locale un locale serale e questo magazzino poteva contenere appunto fino a ottomila e cinquecento eh sacchi di sale il tutto derivante da dalle saline di servia e anche questo è interessante perché Bologna difese eh vanta diciamo di aver vinto delle battaglie navali addirittura con la serenissima eh Repubblica di Venezia proprio in difesa delle saline perché Venezia eh cercava di ehm occupare di prendersi queste saline ma eh Bologna le le difese quindi vanta di aver addirittura vinto questa battaglia e si raggiunge proprio seguendo ehm la la via San Vitale che è la via che porta dritta verso Ravenna proprio verso San Vitale e quella che vedete invece al centro è una scultura di arte contemporanea di una fontana di Mimo Paladino proprio per tornare a trovare quel legame tra l'antico e il contemporaneo che è oggi il luogo deputato praticamente perché è un museo di arte contemporanea. Allora come sempre vi ricordo che se volete potete sostenerci donando il cinque per mille all'associazione e riceverete una mail con tutte le indicazioni per farlo e anche per riscrivervi ai prossimi webinar. Il prossimo è il ventotto di aprile. Chi invece volesse fare delle domande eh potete cliccare sulla icona con la forma di una mano e poi una volta che vi abbiamo attivato dovete attivarvi autonomamente il microfono perché noi non lo possiamo fare quindi per parlare dovete voi attivare il microfono. Aspetto come sempre qualche qualche minuto eh per vedere se qualcuno ha delle domande vedo che ci sono delle mani alzate. Michela? Sì buonasera. Buonasera. Non è una voce da Michela però va bene. No una domanda sul navile eh adesso come adesso si mette in reno giusto? Sì. Una volta invece si metteva direttamente in po' o tramite reno? Come? Cioè non ho capito. Dico adesso si mette in reno? Lei diceva che una volta si metteva direttamente in po'. Sì diciamo non direttamente non direttamente però arrivava fino al po' sì attraverso ovviamente passando anche per il reno. Ah ok perché una volta reno si metteva in po' quindi si metteva in reno e da reno poi in po' ecco. Esatto esattamente. Ok grazie. Prego. Cesare? Mi senti? Sì. Sì. Ciao. Ascoltami la mia domanda è molto semplice. Tu hai eh hai citato quella riapertura del duemila e quattro no? Di quel tratto eh di canale ma mh c'erano anche altri progetti di riaperture o ci sono altri progetti di riaperture o è stato solo così un episodio diciamo? No ci sono ci sono altri eh ogni tanto diciamo viene riproposta l'apertura di alcuni tratti di canali perché eh diciamo che ci sono un po' due correnti di pensiero. Sì. Sì c'è chi ritiene che andrebbero riaperti e dovrebbe tornare diciamo visibile per buona parte e chi invece ritiene di no però sì ci sono diverse proposte. Bene bene. È un po' come come a Milano no? Che c'è quel grande progetto che non riesce. Dei navigli. Dei navigli esatto. Eh sì esatto. È sempre una questione un po' anche pratica perché ovviamente ormai l'assetto urbanistico della città è questo quindi bisognerebbe cambiare un po' di cose è sempre un po' eh non c'è una parte che ha ragione e una parte che ha torto. Certo. Bisogna trovare un incontro che che vada bene entrambi. Certo certo. Grazie. Prego. Tocca a me? Sì Bruno buonasera. Buonasera mi senti bene? Sì. Grazie. Eh lungo il canale c'è un sentiero che è praticabile tranquillamente aperto a tutti dal canale Cavaticcio fino al ponte della Bionda. Sì che è bellissimo. Ecco adesso non si può girare. Si può fare anche in bicicletta. Adesso naturalmente non si può girare ma una persona da sola potrebbe farla. Sì 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 esatto appena si può uscire dal dal proprio comune però sì quello è molto bello eh proprio immerso nella natura è veramente un bel percorso da fare. C'è anche un un cammino che segue proprio tutto il il navile e arriva praticamente poi in Veneto e arriva fino a Padova è il cammino di Santo Antonio quindi volendo se uno ha qualche giorno libero pernottando lungo la via si può anche fare un cammino così di questo tipo. Lungo il canale Lavile qualche mese fa l'ho fatto era in manutenzione quindi era asciutto e se vi si vedeva bene la profondità che è molto bassa. Un'altra domanda via delle lame si chiama così se sono informato bene perché via delle lame d'acqua c'erano dei mulini anche lì che fino a fatto il canale. Sì via delle lame si chiama così perché lì era una zona di acquitrini era una zona di un po non palude però sì di acqua così con degli acquitrini da da una parola latina che è più lime che lame quindi non è legata alle lame alle lame dei coltelli ma quello è una traduzione di specchio d'acqua praticamente. Ah quindi non alimentavano dei mulini erano solo cadute naturali. Sì esatto quella zona lì era la zona che portava verso Mantova. Ah quindi era semplicemente acquitrini che sono stati bonificati e amen. Esatto sì. Grazie. Prego. Grazie di tutto eh. a lei buonasera. Maria? Allora sì volevo capire l'ultima immagine che avete mostrato eh è il cavaticcio dove c'è questa statua di paladino? Sì sì quello è il parco del cavaticcio è dietro al mambo via Don Minzoni. L'altro giorno però sì ho visto questo disco ma non ho non sapevo che fosse di paladino e non l'ho vista bene ecco sono scesa ma è quella che si chiama Hiroshima sulla mappa? Eh il nome dell'opera? Sì perché ho guardato su Google Maps adesso e mi sembra che ci sia una una un nome di questo tipo adesso che si chiama con Hiroshima perché poi lì fanno anche la festa delle lanterne giapponesi una volta ci sono scusa. Sì è vero è vero è un parco e fanno quella festa lì ma fanno anche diverse manifestazioni in estate. Sì sì ci fanno anche un cineforum. Sì sì adesso è tutto chiudo cioè non c'è nessuno ma due anni fa effettivamente quindi è è quella statua che è lì proprio nell'acqua. Sì sì esatto è praticamente una statua fontana. Ecco benissimo sì non non andava come fontana per cui non non ero sicura e volevo soltanto essere sicura. Adesso la prossima volta che ci vado la guarderò meglio. Grazie. Grazie a lei. Buonanotte complimenti. Buonasera salve. Ciao buonasera buonasera volevo sapere il canale che è praticamente alla fine della certosa quando iniziano i portici che vanno verso lo stadio quello che canale è e dove si mette o insomma da dove? Quello lì è proprio il canale di Reno. Ah ok. Quello lì è proprio il sono le acque del Reno che arrivano in città quindi andando verso ovest si va verso Casalecchio di Reno e poi verso la chiusa e invece andando verso est si arriva al viale alla grada e poi entra in città. Ok perfetto grazie mille. Prego buonasera. Damiano. Sì buonasera a tutti intanto complimenti e grazie per le informazioni. Avevo una curiosità e il canale ha fatto vedere la foto quello che passa sotto la zona centrale di Bologna e proprio con le volte a botte. È visitabile? Allora adesso i sotterranei di Bologna sono chiusi da circa ormai una decina di anni. Non sono più visitabili per decisione insomma del comune non non privata ecco è una decisione generica quindi non si può più scendere a visitarli. Ho capito. Grazie. Grazie buonasera. Allora aspetto qualche secondo se c'è ancora qualcuno che ha alzato la mano. Se non c'è nessuno che ha delle altre domande poi vi saluto. Aspetto giusto un secondo. Ecco Sabrina ho visto che ha alzato una mano. Buonasera. Buonasera. Ciao buonasera. Sono Massimo. Il marito. Il marito. Volevo chiederti il canale del Cavaticcio. Sì. Poi dopo continuando sotto Bologna si va ad immettere in una centrale idroelettrica che è ancora tuttora in funzione. Domando. Cioè se abbiamo una centrale idroelettrica in funzione. Sì. Sì sì. Ok. Quella che c'è lì tra via Marconi. Esatto. Sì sì. Le utilizziamo ancora. Sì. Non sarà di grossa potenza credo perché comunque il sotto è una cosa abbastanza piccola. No no certo. Però il percorso. Cioè diciamo che le parti antiche sono ancora utilizzate in parte dei canali. Cioè per dire anche il corso del Reno in alcuni tratti segue l'acquedotto romano. Volendo. Cioè si si usa a Bologna anche l'acquedotto romano ancora. Quindi diciamo che ci sono delle parti che vengono ancora utilizzate. Assolutamente sì. Poi fanno manutenzione se non mi sbaglio una volta all'anno che lo chiudono ogni 15 giorni. Poi che sono poi quei periodi in cui è visitabile. Oppure era visitabile. Eh sì. Era. Esatto. Anche anche l'Aposa. Così erano visitabili quando non c'era molta acqua. Quindi nei periodi in cui era più secco praticamente. Però essendo appunto anche l'Aposa un torrente il problema è che proprio se ha delle piene l'Aposa ha delle piene improvvise. Perché scorrendo così in maniera impetuosa non si ha il tempo. Se piove a monte, sui monti, non si sa in città. E nel giro di poco tempo l'acqua arriva. Arriva proprio come una piena. Quindi diventava un po' pericoloso per quello. Sì infatti la roba che il comune dopo ha deciso di chiudere di non rendere più visitabile. Perché è tutta roba loro. Quindi tramite era comune. Sì sì. Che però sono quello che abbiamo visto nelle immagini. Quindi non è da immaginare una Bologna sotterranea come magari altre città come Parigi. Sono più che altro dei percorsi così dei canali con delle volte a botte dove si può attraversare la città. Ecco è più suggestivo magari come sapere di poter entrare in un punto e uscire in un altro. Ma non è che ci siano delle sale o degli ambienti particolarmente di interesse artistico. Sì sì. Infatti la maggior parte si trova dei manufatti vecchi che poi sono stati integrati in quelli che sono stati i vari tombamenti e lavori vari che poi sono succeduti a Bologna per creare questa superficie abitabile che prima non ci sarebbe stata se non si fossero tombati i canali. Esatto. Esattamente. Ok. Grazie mille per la spiegazione e sei sempre molto brava. Grazie. Grazie. E da parte mia. Grazie. Buonasera. Buonasera. Salve. Paola? Sono Paolo comunque. Sono anch'io. Buonasera. Paolo e Paola. Volevo fare una domanda perché mi ricordo a memoria in via Bovi Campeggi si vedeva un canale, un qualcosa che ha circa metà e volevo capire da tutte le piantine non ho riconosciuto qual era dei canali che attraversa, se era uno di quelli che avevo mostrato. Mi dice dove rimane via Bovi Campeggi? Dopo la stazione andando verso Porta, sulla destra è come un bivio che porta via Zanardi, diciamo. Sì, è il Navile. Ah, il Navile quello perché me lo ricordo così che si vedeva passando in auto un canale. Sì, sì, è il Navile. Ok, molte grazie. Grazie a lei. Buonasera. Buonasera. Allora, direi che non vedo altre mani alzate. Non c'è nessuno con la mano alzata, quindi aspetto un secondo o due per vedere se c'è qualcuno che la alza. Poi ecco, vedo una mano. Davide? Sì? Sì. Ciao, buonasera. Buonasera. Buonasera e complimenti. Ti chiedevo questo. Io abito vicino qui al ponte di San Rufillo e sapevo che c'era il progetto di aprire un museo delle acque qui vicino, così avevo sentito dire. Puoi sapere qualcosa? Tu? Nella zona lì del Savena, quindi? Sì, esatto, qui del ponte del Savena. Sì, anch'io sapevo che c'era il progetto. Non so se hanno deciso di collocarlo lì o in altre, se hanno cambiato zona, però sì, un museo delle acque, so che c'era il progetto di aprirlo. Sì, anche lì avete una chiusa. Certo, bellissima. Eh sì, esatto. Quelle sono le acque che alimentano anche, arrivando da Est, alimentano anche i giardini Margherita, quel laghetto che c'è. E' una derivazione del canale di Savena, che anche quella è una bellissima zona. E qui c'è anche un edificio, fra l'altro, con una targa che ricorda un'antica battaglia del 1300 combattuta da queste parti. Sì, esatto. E' molto bella questa zona, per chi volesse venire a vedere, faccio un po' di pubblicità. Sì, anch'io, è molto bella. Io ho visto anche un cerviatto. Sì, sì, ce ne sono. Confermo. Proprio sul Savena, esatto. Grazie mille, grazie mille e complimenti. A lei, buonasera. Ok, direi che era l'ultima mano alzata. Possiamo salutarci. E vi aspetto la prossima volta, se vi fa piacere, il 28 e riceverete la mail per iscrivervi e per fare la donazione del 5x1000. Buonasera a tutti. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.